Quello appena cominciato è l'anno scolastico della ripartenza e della svolta, a definirlo così è il sottosegretario all'istruzione l'onorevole Rossano Sasso in visita al liceo classico Casardi di Barletta. La cerimonia inaugurale dell'anno scolastico 2021-2022 ospitata dalla storica Aula Magna dell'istituto è stata l'occasione per una riflessione sui tanti problemi che affliggono la scuola italiana. Finalmente dopo 18 mesi di deprivazione culturale stiamo tornando alla normalità, attenzione però perché la normalità può voler dire anche i vecchi problemi, in questa scuola ne ho trovati, però la buona notizia è che fra poco più di un mese ci saranno i bandi del PNRR, tanti soldi con cui noi dobbiamo superare i problemi che la scuola italiana ha e quindi in questo caso ho problemi legati soprattutto all'edilizia scolastica. I nostri studenti meritano il meglio, io ho già chiesto alle autorità locali di farsi trovare pronte con dei progetti che siano immediatamente esecutivi per ristrutturare, mettere in sicurezza, costruire nuove palestre, mense e costruire proprio scuole anche ex novo. In questo caso c'è bisogno di far sentire alla comunità scolastica di questa scuola tutta la presenza e l'autorevolezza dello Stato. La ripartenza dell'anno scolastico passa per la lotta al Covid-19. Non c'è ancora un programma per la somministrazione delle terze dosi ai docenti, di certo vaccinarsi è fondamentale per scongiurare un ritorno alla DAD. È chiaro ed evidente che se le terapie intensive non sono piene come lo erano esattamente 12 mesi fa significa due cose, che i vaccini stanno funzionando grazie a Dio. In tutto questo la comunità scolastica è stata molto responsabile. I docenti sono quelli che per primi si sono vaccinati e lo hanno fatto in una misura pari al 95%. Io personalmente non sono per l'obbligo vaccinale, sono per la libertà di scelta, ma il mio consiglio è quello sempre di promuovere i vaccini. Ripresa delle attività didattiche, ma anche e soprattutto delle relazioni interpersonali. A sottolineare l'importanza di questo aspetto è la dirigente scolastica, Serafina Ardito. Per noi è una grande gioia perché non solo si riprendono le attività didattiche, ma si riprendono anche le relazioni sociali e quindi i contatti riguardanti l'amicizia tra gli allievi e le amicizie che per lungo tempo sono stati sospesi.